ciao a tutti sono alessio 19 870 altro gameplay di metal gear solid 4 dopo il filmato di prima adesso devo affrontare raging raven via iniziamo allora andiamo all'ultimo piano della torre qua distruggono tutto ecco arrivato all'ultimo piano allora cambiamo un po di armi allora mettiamo dov'è questa l'M60E4 e qua mettiamo il Javelin ok bene cominciamo a combattere contro quella lì eccola non devo perdere di vista ma che? dov'è? eccola ok beccati questo ok metto il Javelin e beccati questo mancato cambiamo arma metto questa ok ok aia manco i miei bersagli allora cambiamo arma veloce ok e adesso beccati questo no accidenti accidenti mo ti colpisco siiii colpita finalmente l'ho fatta fuori e vai e vai e fate un filmato che si toglie questa robaccia di rosso ma bastardi eh togliamo il filmato e mo questa qua mo no no lo so se mi afferra perdo energia cambiamo arma tolgo il Javelin e metto questa il Mosin Nagant come ho fatto con l'altra Raging Beauty questa qua si chiama spariamo i narcotici va qui e uno no e due siiii e tre che urlo questo è meglio altro filmato ma tanto ti ho addormentata racing beauty e il suono delle campane e rimane così e rimane così e come dorme intanto snake recupera il lanciagranate di lei ma che bel lanciagranate che ha una chiamata la chi drabbin trabbin ecco questo Sì, sì. Ok. Dunque, finisce qui i gameplay di Metal Gear Solid 4. Un ciao da Alessio19870. Al prossimo gameplay!